Dal 1967 diamo un solido supporto alle famiglie per raggiungere i propri obiettivi di crescita. FinSarda è la finanziaria dei Sardi operante nel settore dal 1967. In 40 anni di esperienza e professionalità abbiamo creato un enorme patrimonio, i nostri clienti. Il nostro punto di forza, oltre alla velocità di erogazione, è il rapporto personale e umano intrattenuto con la clientela. FinSarda è iscritta al Ministero del Tesoro presso l'Ufficio Italiano Cambi al numero 10.944 e partecipa, quale società campione, alla rilevazione periodica dei tassi di interesse. FinSarda è socio fondatore dell'Unione Finanziaria Italiana.